perché lo vogliamo bene, siamo qui non abbiamo scelto la spiaggia, non abbiamo scelto il mare, non significa se qualcuno ha preso una domenica o ha un periodo di riposo non è nella volontà di Dio ma voi capite il senso delle mie parole, abbiamo chiesto che vogliamo vedere la gloria di Dio e io credo che Dio ci prenderà in parola, non solo ci manifesterà la sua gloria ma credo che questa sera manifesterà la sua potenza perché quello che noi abbiamo bisogno, quello che io ho bisogno e credo che anche tu hai un bisogno, la Chiesa ha un bisogno, la Chiesa in generale ha un bisogno e il nostro bisogno è che Dio possa scuotere le nostre vite, che Dio possa scuotere le nostre coscienze che Dio possa scuotere i nostri cuori in un modo che possiamo vedere con più chiarezza, possiamo ricevere di più dalla grazia e dell'amore di Dio. Nel capitolo 1 del lettere Colossese al verso 12 è scritto rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei Santi nella luce continua al verso 13 e dice Colossese era un popolo, una piccola comunità che avevano aperto il loro cuore a Dio come tu hai aperto il tuo cuore a Dio avevano fatto un'esperienza come noi abbiamo fatto un'esperienza Dio ringraziava il Signore per come avevano ricevuto la parola questa parola che portava frutto nelle loro vite erano di buona testimonianza si davano per il Vangelo, si impegnavano per il Vangelo avevano un buon pastore, Eperfa che era fedele ed è importante essere fedeli e quando in una comunità vi sono ministri fedeli la gloria di Dio è manifestata ma necessitavano di qualcosa di più come molte volte nella vita di ogni chiesa, di una realtà vado un po' forte chi è per la prima volta non sempre sono così ma stasera non posso andare piano per quello che c'è nel mio cuore mi dispiace che c'è la carissima sorella dall'Inghilterra potesse che accaverà poco quando io predico tu traduci Graziella perché Paolo scrisse ai Colossesi ha messo davanti a loro quello che Dio aveva fatto nelle loro vite come Dio mediante lo Spirito Santo ha fatto nel nostro cuore Paolo ha scritto questa lettera ma chissà quante volte ha predicato su questi concetti ha predicato, sviluppato questi concetti o ha predicato su questi temi e credo che quando Paolo ha predicato anche lui era preso di fervore anche lui era ripieno della grazia di Dio abbiamo cantato che vogliamo vedere la gloria di Dio eravamo sinceri detto in quello che noi abbiamo cantato ma credo che c'è bisogno di qualcosa di più nella Chiesa c'è qualcosa di più nelle nostre vite c'è bisogno di qualcosa di più maggiore in modo che Dio possa scuotere i nostri cuori al verso 12 gli parla, gli manifesta racconta loro, rende partecipi della sorte, della eredità che loro avevano avuto in Gesù Cristo con tutti i santi e dice partecipi della sorte dei santi nella luce nel verso 13 dà la spiegazione del verso 12 e dice poiché egli ci ha riscosso dalla potestà delle tenebre c'è la gente nel mondo che non crede al diavolo che non crede nel regno delle tenebre che non crede che c'è un reame diabolico che non crede nella loro esistenza ma noi che abbiamo sperimentato Dio sappiamo che c'è un regno delle tenebre che c'è un regno del diavolo che c'è un regno di Satana la persona che vive nel mondo non conosce Dio non sa niente di Dio non sa chi è non sa di dove viene non sa dove si trova non sa dove è diretto perché la parola di Dio dice che loro regnano nelle tenebre chi regna nelle tenebre è distante dalla luce chi regna nelle tenebre le sue opere sono opere di tenebre noi molte volte quasi rimaniamo con la bocca aperta o sbalorditi perché le persone che vivono nelle tenebre compiono cattivazione bestemmino Dio ce l'hanno contro Dio ce l'hanno contro il regno di Dio sono ribelli le loro opere sono malvagie per come dice la parola di Dio offendono Dio vanno contro il Vangelo uccidono i suoi profeti uccidono i suoi ministri perché il regno delle tenebre è opposto al regno di Dio il regno delle tenebre è in controposizione in quello che è il regno della grazia il regno che tu hai sperimentato nel tuo cuore è la nostra vita c'è un momento della nostra vita quando ci dobbiamo fermare c'è scritto in un salmo fermatevi e riconoscete che io sono Dio ma c'è un momento quando noi ci dobbiamo fermare e poter rivedere capire comprendere quello che Dio ha fatto nella tua vita o quello che Dio ha fatto nella nostra vita come questo procedimento di grazia questa benizione è venuta ed è scesa sui nostri cuori quindi un regno di tenebre ma dice poi egli ci ha riscosse egli ha scosso la nostra vita e ci ha trasportato nel regno del regno del suo figliolo Gesù Cristo è scritto nella Bibbia è scritto nelle lettere che noi eravamo sotto il peccato sotto il dominio di Satria dice che noi eravamo ribelli figlioli di Dio figlioli della disobbedienza ognuno andava per la sua via ognuno faceva commetteva i suoi peccati eppure peccavamo e la nostra coscienza ci approvava non sentivamo il rimosso perché eravamo nelle tenebre quando Gesù Cristo è venuto ha predicato il regno dei cieli ha predicato sul suo regno ha predicato il regno di Dio il regno di Dio esisteva ancora da quando è entrato nel tuo cuore o nella mia vita ecco perché nella preghiera del Padre nostro cosa dice venga il tuo regno dove deve venire il regno sulla terra sulle persone nella vita delle persone delle persone che credono che si arrendono alla sua parola quella era la nostra condizione Pietro dice erante come pecore questa era la nostra realtà eravamo fornicatori eravamo peccatori eravamo bestemmiatori eravamo adulti ognuno conosce qual era la loro la propria condizione prima ancora che conoscesse Dio ma che cosa è successo alla nostra vita ecco perché dobbiamo considerare quello che Dio ha fatto e non solo dobbiamo considerare ma dobbiamo apprezzare quello che Dio ha fatto nella nostra vita Paolo ringraziava Dio non solo per quello che era successo alla sua vita ma ringraziava Dio per quello che la Chiesa aveva sperimentato quello che la Chiesa di Colossi aveva sperimentato quello che loro avevano gustato come noi questa sera possiamo ringraziare Dio per quello che è successo alla nostra vita per quello che è toccato al nostro cuore sei felice sei confortato in Gesù sei scontento pensa che hai commesso un errore affidare la tua vita al Signore pensa che forse non so così ti sei diciamo abbagliato dalla religione o mai hai la coscienza che l'amore di Dio la grazia di Dio ha toccato il tuo cuore disse Gesù se tu non nasci dall'alto non puoi entrare nel regno di Dio disse Gesù e dice anche Giovanni che non ho né canne e sangue ma quello che noi abbiamo sperimentato è perché Dio l'ha voluto nel nostro cuore egli l'ha voluto nello spirito noi siamo qui nello spirito siamo qui nella canne ma siamo qui nello spirito perché è nello spirito che noi adoriamo è nello spirito che noi preghiamo è nello spirito che noi apriamo i nostri cuori è nello spirito che noi aspettiamo che Dio benedica le nostre vite perché il nostro desiderio è della benedizione il nostro desiderio è che lui rivesta la sua grazia il nostro desiderio è che lui possa scuotere le nostre coscienze cosa è successo? come è successo questo cambiamento? questo grande miracolo come è avvenuto nella nostra vita? c'è stato un momento quando un qualcuno un evangelista un uomo una donna ci ha parlato del peccato ci ha parlato di Gesù ci ha parlato dell'inferno ci ha parlato della vita della vita eterna ci ha parlato dell'amore di Dio e qualcosa è successo nel nostro cuore qualcosa è venuto dentro abbiamo sentito il bisogno di aprire il nostro cuore e dal momento che abbiamo aperto il nostro cuore è avvenuto che cosa? un ravvedimento cosa ha comportato il ravvedimento? il ravvedimento attraverso il ravvedimento successivamente vi è una nuova nascita quindi essere trasportati nel regno della luce nel regno della grazia nel regno dell'amore con il ravvedimento abbiamo abbandonato il peccato abbiamo detto no al peccato chi fornicava ha detto no alla fornicazione perché ha sperimentato qualcosa di più potente del sesso ha sperimentato l'amore di Dio ha sperimentato la presenza del Signore ha sperimentato il suo fuoco che aveva doppia relazione ha chiuso quella relazione perché un ravvedimento è avvenuto nel suo cuore ed è stato portato nel regno della grazia nel regno della luce chi viveva in un modo ha abbandonato quel modo di vivere per come dice la parola di Dio perché ha ricevuto Gesù nel proprio cuore questo è il miracolo che è avvenuto nella tua vita questo è ciò che tu hai realizzato questo è ciò che noi abbiamo realizzato Paolo parla ai Colossesi e dice perché gli ci ha riscorsi dalla potestà delle tenebre Colossa avevano un pericolo correvano un pericolo è scritto più avanti perché le filosofie il modo di parlare il modo di ragionare le persone potevano allontanarlo dalla grazia di Dio questo è il metro con cui ti deve misurare non quello che ti dico io ma quello che ti dico io lo deve confrontare se è scritto nella parola di Dio lo deve confrontare con se è scritto qui egli dice che eravamo nelle tenebre e ce l'ha trasportato nel regno della luce Gesù dice voi siete luce voi siete luce nel mondo voi avete realizzato la vita e la luce voi non siete più tenebre ma voi siete la luce e nel dire questo il peso sul suo cuore è il peso che voleva mettere la nostra vita non è un peso che scaccia la verità non scaccia la verità libera la verità non condanna la verità libera dalla schiavitò sono le tenebre che oscurrono la vita di chi non vuole camminare e vivere nella verità nel Vangelo di nella prima lettera è scritto di Giovanni che in Dio non vi sono tenebre alcune perché egli è luce noi eravamo nelle tenebre più bue come ha fatto Dio a liberarci mediante la sua luce la sua luce è venuta incontro noi eravamo nel buio più totale e la luce di Dio la luce di Gesù Cristo ci è venuto incontro e dal momento che noi abbiamo gridato a Dio dal momento che noi abbiamo detto sono un peccatore sto morendo sento le fiamme dell'inferno dal momento che abbiamo gridato a Dio che abbiamo sentito il peso del peccato sulle nostre viscere abbiamo sentito quel peso che ci stava scacciando ma allo stesso tempo ci veniva rivolta la parola di libertà la parola che è libera noi abbiamo detto sì Gesù entra nel mio cuore e dal momento che la luce è entrata nel nostro cuore le tenebre si sono diradate non potevano resistere perché era la luce di Gesù Cristo della sua resurrezione la luce del suo sacrificio la luce della sua obbedienza la luce che viene dalla grazia e le tenebre ci hanno abbandonato non hanno potuto rimanere in noi ecco perché noi camminiamo nella luce viviamo nella luce desideriamo la luce non permettiamo alle tenebre di macchiare quel vestito che egli ci ha donato e ci ha dato che sappiamo quanto è costato la sua morte ecco perché noi cresciamo nella luce cerchiamo la luce desideriamo la luce ecco perché la mattina quando ci alziamo spalenchiamo le finestre del nostro cuore perché vogliamo che quella luce risplenda nella nostra vita ogni giorno le finestre non si possono chiudere io spero che la mattina quando ti alza a casa tua spalanchi le finestre a me piace spalancare le finestre mi piace che la luce del sole entra in casa mia illumini ogni cosa ma noi desideriamo di più che la luce di Cristo possa eliminare i nostri cuori e la nostra vita questa luce non riflette automaticamente egli non ci ha dato una batteria che non si scarica mai egli non ci ha dato un sistema che faccia tutto quello che voglio e quella luce risplenda ancora sul nostro cuore e sulla nostra vita lo Spirito Santo dove non è desiderato va oltre lo Spirito Santo dove non è desiderato con tutto il cuore va oltre egli dimora dove c'è fame della sua presenza dove c'è passione dove c'è desiderio di piaceri di vivere nella santità di vivere nella giustizia noi non siamo del mondo e non ci confrontiamo confrontiamo col mondo noi ci confrontiamo con la parola di Dio noi ci confrontiamo con questo libro meraviglioso alcune donne dicono devo lavare devo stirare devo pulire le tapparelle devo passare ad aspirapolvere che fate di più donne ditemi devo lavorare devo cucinare poi devo fare il letto che c'è più devo stirare voi uomini fate zapping che facciamo noi non so andiamo facciamo altre cose no possiamo prendere con le donne e diciamo non ho tempo per pregare non ho tempo per leggere la parola di Dio non ho tempo per stare alla sua presenza come pensiamo di resistere al peccato e alle tenebre se non andiamo alla sua fonte ad attingere se non andiamo a bere o a beverarci alla sua presenza ecco perché egli disse chi ha sede venga e beve egli non ha costretto nessuno egli non ha svenduto il suo regno egli non ha svenduto la sua verità ma ha detto chi ha sede venga e beva non si può vivere una vita cristiana fervente se non dimoriamo nella parola se non leggiamo la parola se non permettiamo a Dio di parlare al nostro cuore se non permettiamo a questa parola di riposare sul nostro cuore sulla nostra anima se non ci disponiamo alla sua presenza se non siamo lì prese da Lui ragioniamo sulle sue cose la nostra mente non è presa da altre cose ma è presa di quello che è la realtà spirituale che Lui ha portato nel nostro cuore nella nostra vita Egli ci ha riscosse scosse ed è necessario questa sera che Lui scuota ancora le nostre coscienze e le nostre vite giovane la Bibbia dice che i figli sono santificati e protetti dai genitori ma io mi chiedo fin quando fino all'età che tu capirai e comprenderai di quello che Gesù ha fatto nella tua vita dal momento che tu hai coscienza che Cristo è morto è risolto per te tu non dipendi più dai tuoi genitori ecco perché noi non abbiamo nel mondo evangelico i compari quando io sono stato battezzato c'era il compari la comare non era così per quelle che siamo vestiti il padrino noi sappiamo che questa non è la realtà quindi dal momento che tu hai coscienza della grazia di Dio se tu non vuoi venire in chiesa hai tutto il diritto di non venire in chiesa se tu non vuoi sapere niente di Dio tu hai tutto il diritto di non sapere niente su Dio se tu vuoi andare nelle tenebre tu hai il diritto di andare nelle tenebre se tu vuoi che le tenebre adombano offuscono la tua vita e una tua libertà e che lui non costringe nessuno ma deve sapere le conseguenze di tutto questo deve sapere il fine detto prima che coloro che vivono nelle tenebre non sanno chi loro sono non sanno che Dio li ha creati e che Dio ha scopo per la loro vita non sanno che Dio ha dato la loro vita per essere generati non sanno che luogo sul quale sono Dio lo ha creato ma noi che siamo nella luce sappiamo perché chi si accosta a Dio non solo deve credere che Egli è ma che è creatore del mondo e del cielo e di ogni cosa noi che abbiamo creduto sappiamo che la speranza di cui parla Paolo è una speranza eterna è una speranza di vita eterna è una speranza per l'eternità noi sappiamo che dal momento che Lui ha fatto questo miracolo in quale condizione e posizione Egli ci ha posto noi siamo nella luce e dato che noi siamo nel regno della luce non possiamo produrre tenebre quando ci siamo convertiti ci siamo convertiti quando abbiamo assaporato la grazia di Dio non ci importava più del mondo non ci importavano i vizi non ci importavano quelle cose che prima erano l'allegrezza passione del nostro cuore quando ci prima che ci convertissimo non so chi veniamo anni 70 80 si portava la camicia sbottonata si faceva vedere il pelo dal momento che ci siamo convertiti scusate la camicia ce la botteniamo non facciamo più vedere il pelo amene amene uomini ma ce ne anche per voi donne dal momento che siamo nel regno della luce tutta la nostra attrazione e l'attrazione che noi produciamo per gli altri è un'attrazione per il regno di Dio per la luce per la grazia di Dio molte volte mi chiedono ma perché qualcuno quando vede me pendi come si chiama top e solo alza perché vede il pastore quindi c'è il pastore nascondiamo il punto è uno se sei nelle tenebre o sei nel regno della luce se sei nelle tenebre quando vede a me non ti sestamare o altre ma se sei nel regno della luce c'è uno più importante del pastore che è lo spirito santo che vive nel nostro cuore la nostra vita chi vive nel regno del regno di Gesù Cristo la santificazione la consagrazione il separazzo sa che non è una opzionale ma è ciò che insegna la parola di Dio perché abbiamo realizzato Gesù abbiamo realizzato la sua grazia abbiamo realizzato il suo amore siamo stati liberati egli ci vuole bene egli ci ama forse questa sera qualcuno c'è meglio che cambio chiesa sì ci sono associazioni perché non possiamo chiamare chiesa perché chiesa significa gente che è stata tirata fuori dal regno delle tenebre e vive nel regno del suo figliolo Gesù ma io posso andare in un altro posto lì anche se convivo mi battezzano lì anche se sono nel peccato nessuno mi dice niente lì nessuno mi parla di santità egli ci ha scosso dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo figliolo Gesù e noi lo amiamo Gesù anche se non lo vediamo egli rallegra il nostro cuore ogni volta che leggiamo la parola di Dio sperimentiamo che questa è la parola di Dio perché le lascia benedizione non importa quale è lo stato in cui mi trovo ma lui mi conforta questa mattina c'è stata una bella testimonianza a massa Mario Nicolosi loro avevano una diadriba per una casa che hanno comprato hanno dato i soldi al costruttore poi come succedeva molti anni fa non ci sono più le protezioni di oggi quindi un fallimento per moltissimi anni non hanno pagato poi dovevano pagare queste cause che voi sapete che è duro per tantissimo sono andati in castazione a Roma ed è arrivata la risposta la risposta era negativa ogni diciamo inquilino proprietario tra virgolette calcolando gli affitti tutti questi anni dovevano dare 105 mila euro quando ha letto i suoi figli si sono persi d'animo si sono messi a piangere ma me e moglie che vivono nella luce e sono piantate nel regno hanno detto si sono dette qualsiasi sia la prova noi la vogliamo affrontare con la grazia e con l'amore di Dio non si sono strappati i capelli non si sono sono presi con Dio l'indomani mattina arriva un'altra persona che abita vicino a lui e gli gli signori Nicolosi tutti siamo stati condannati ma lei per un vizio è stata assolta ha sperimentato un miracolo amén io stamattina quando lui ha detto conoscendo la storia ho preso la bibbia non lo faccio mai e l'ho buttata in aria ma prima hanno detto me e le moglie siamo disposti ad affrontare la prova egli ci ha trasportati nel regno del suo figliolo Gesù Cristo e l'incoraggiamento che viene da Dio perché questa sera è una prova di incoraggiamento come possiamo continuare a rimanere nella luce come possiamo pur essendo in un mondo di peccatori continuare a risprendere ci sono sistemi oggi non so il fotovoltaico non so come funziona ci sono dei pannelli che dicono per come si sposta il sole si spostano i pannelli noi possiamo continuare a vivere nella luce guardando verso la luce verso Gesù Cristo verso questo faro di gloria quando ero ragazzo avevamo le biciclette queste biciclette avevano un sistema un po' diverso non so se ancora oggi sicuramente ma oggi ci sono tanti nuovi sistemi avevamo queste biciclette e molte volte necessitavamo di luce della luce e c'era la dinamo non so chi si ricorda ve lo ricordate? e allora ci mettevamo sopra sopra pedalavamo più pedalavamo più faceva luce come ti fermavi finiva la luce più pedalavi più luce quando lui dice camminate nello spirito progredite nello spirito non tutto è un miracolo c'è Dio quello che fa Dio ma c'è quella che è la nostra responsabilità noi dobbiamo esporci noi dobbiamo fare tutto quello che sappiamo che la parola di Dio ci insegna dice ed egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo ritenzione per mezzo del suo sangue e perdono dei nostri peccati vogliamo essere grati a Dio questa sera vogliamo azzarci in piedi vogliamo benedire in nome di Dio vogliamo ringraziarlo per questo grande miracolo vogliamo ringraziarlo per la pietà e misericordia che ha avuto per le nostre vite vogliamo ringraziarlo per come ha prodotto ravvedimento in noi vogliamo ringraziarlo per la nuova nascita vogliamo ringraziarlo per la luce Paolo l'aveva sperimentato sulla via di Damasco egli era stato fermato dalla luce di Cristo ecco perché lui aveva questa convinzione e la rivelazione che aveva ricevuto e aveva donato la sua vita aveva consacrato la sua vita per il Vangelo noi siamo stati chiamati per consacrare la nostra vita noi siamo stati chiamati dalle tenebre nel regno del regno del suo figliolo Gesù Cristo che è un regno di luce per continuare a portare avanti questa luce a desiderare questa luce a vivere per Gesù a vivere per la grazia di Dio a vivere per il suo amore essere disposti a essere mortificati essere disposti a essere maltrattati essere disposti a volte a subire anche parole ma noi non ci muoviamo oh Signore abbiamo bisogno di Te tutti noi abbiamo bisogno di Te io che parlo ho bisogno di Te ho bisogno di più della Tua luce ho bisogno di più del Tuo amore ho bisogno di più di vita di preghiera ho bisogno di più di Tua luce 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.